ciao a tutti sono alla località il pioppo sopra pallagnano da qui prenderò il sentiero per il monte croce si prende il sentiero numero 135 che porta alla località il termine e da lì si prende il numero 108 il nostro corso gratuito www.mesmerism.info un gruppo delle panni il corchia, la versiglia, il procinto, il nome, matanna e il piglione tre chilometri e mezzo da pioppo alla vetta del monte croce per chi volesse fare un giro ad anello si può proseguire verso la foce delle porchette e prendere dopo la direzione di pallagnano io sono a posto così e quindi ripercorro il giro dell'andata è quasi mezzogiorno stamattina mi sono svegliato alle 5 ho fatto una colazione super abbondante e sono salito sul croce con un litro e mezzo di acqua che è bastata adesso se la trattoria pallagnana è aperta mi fermo perché ne parlano bene alla fine ho mangiato fabbriche di valico e tanta roba il ristorante niente giro finito in agosto quando riesco provo di fare un'altra vetta delle appuane meridionali tipo il piglione mi ispira il gabberi roba così e niente continuate a seguirmi ci vediamo alla prossima ciao a tutti